Ciao, grazie per aver visionato il mio video. Ti ricordo che per rimanere aggiornato ti consiglio di iscriverti al canale e attivare le notifiche tramite la relativa campanella delle notifiche. Facendo così riceverai tutte le mie ultime notizie e inclusi anche i nuovi gameplay o live. Quindi io ti ringrazio e buona visione. Ciao a tutti e ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo gameplay. E quest'oggi siamo su For Honor per continuare la storia. Ragazzi, questo devo dire che è un bel gioco, una bella grafica e nella sua semplicità è molto bello. Soltiamo qua i dialoghi. E nessuno osò sfidarci. Poi, come una pestilenza, venne la pace. I condottieri svanirono dalle cronache e il popolo divenne debole e cordiale. Quando le razzie vichinghe ripresero, la legione di ferro non era preparata. Ashfield piombò nel caos. Ma anche i vichinghi sembravano deboli. L'ombra di ciò che erano stati. E i samurai da anni non si avventuravano fuori dal maire. Ora, una nuova potenza è nata ad Ashfield. La legione di Ossidiana. Cavalieri, veri guerrieri, che comprendono ancora la differenza tra predatore e preda. Noi siamo giunti per riportare il mondo sulla giusta via. Questa sarà un'epoca di lupi. Ok. Ragazzi, questo appunto è un gioco della Ubisoft sempre. Dato gratuitamente qualche tempo fa. Oramai è passato tantissimo tempo. Quindi non l'ho comprato. E quanto pare sono tre capitoli. Ora non so quanto siano lunghi. Comunque c'è capitolo 1, Cavalieri, il 2 dei vichinghi e i samurai. Ora appunto non so come siano suddivisi. A missioni. Comunque sia. Devo dire che è veramente eccitante poter giocare un gioco del genere in modo gratuito senza averlo pagato. Quindi. Ora non so. Sì, credo che ci siano un bel po' di missioni. Condottieri e codardi. Facciamo la prima missione. Livelli di difficoltà. Non so. Se vuoi solo la storia. Difficoltà di combattimento equilibrata. Facciamo facile perché adesso devo andare poi magari nelle prossime missioni faremo diversamente. Osservabili e distruggibili. 4 e 10. Giochiamola va. I guardiani. Membri di un antico ordine ormai perduto. Votati alla difesa dei deboli. Maestri nell'uso dello spadone. Campioni di giustizia. Le loro origini si perdono nella storia. Ma solo in pochi possono diventarlo. Ricordo tutto il 1080p Ultra 60fps Seleziono l'aspetto desiderato Siamo tutti uguali Beh, questo è più più muscoloso Il guardiano ha viaggiato fino ad Ashfield per mettere la sua lama a servirsi di una causa degna Ciò si è rivelato difficile Giochiamo Confermo Vai Rotola via dai nemici con spazio Mentre non punti nulla Abbiamo già fatto Di ricordare che in pre precedente Gli addestramenti Gli eri fatti mentre aggiorniamo il gioco Prima di registrare Per cui Dovrei essere a posto con I comandi Molto semplici oltre tutto Caricando la mappa La prima volta che avvio una storia Caricando la mappa La prima volta che avvio una storia Vieni fuori Vieni fuori Dobni Non deve finire per forza così Non fatevi avvicinare La riete La riete Ma che bug grafico eh Ma che bug grafico eh Sai perdere la Ubisoft Da stiamo parlando I legionari stavano scalando le mura orientali Stanno scalando la muraglia Non so come cacchio si fa a vedere Comunque andiamo Nuovo obiettivo Prenderemo le guardia E puntare un nemico Premi control Io lo sapevo Comunque Non lo stavo facendo Premi L alto Ah ok Guardi Ok Guardi Guardi a più Sì Non so come si fa Ok Lo sapevo Sono concentrato Attaccato Il nemico Non ha guardia Attacco leggero Attacco pesante Ok Attacco pesante Mi ha beccato Stavo guardando i bug grafico Ok Ok Che ho fatto Andiamo a guardia Cos'è? Ci riguardare I rinforzi erano in arrivo Dovevo proteggere quelle mura Aia dai È molto Questa dovrei fare Adesso Ah Fatto Ah da qui Vengo In due Mancherebbe Ci mancherebbe Chi siete alleati Ok I raccogli I raccogliibili sono poteri consumati che possono essere equipaggiati Premi 2 per usarli Premi F6 per una descrizione delle tecniche equipaggiate Vettiva missione Attacco leggero Attacco pesante Vabbè questo ce l'ho capito Come funziona Perché me lo fa sempre vedere? Obiettivo completato Dobbiamo salire Prendiamo qua l'abilità Prendiamo qua l'abilità Fatto Ok Ho capito ancora che cacchio è sto coso? C'è sto occhio qui no? Ma che serve Basta Distruggi le cose Dalle cose Basta Questo è tutto Ma Scatto Scatto Avete visto è così che si fa Avete visto è così che si fa A presto L'hai Beata Lo spingiamo E' così che si fa E' così che si fa E' così che ci fa E' così che si fa la catapulta è di nuovo pronta dentro la brezza l'ariete porrà fine a questa battaglia no difendetemi no 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 che entrai nella legione diossidiana welcome to the black stone legion wow che emozione recompense non ci capisco la mazza quasi quasi momento di livello storia, livello 2 momento di livello storia, livello 3 tecnica bottino della missione, emblema sfondo vabbè e stanne fuori i vichinghi stavano per distruggere l'ultimo rifugio della legione di ferro ad Ashfeld la mia legione di ossidiana li avrebbe salvati livello storia guadagni esperienza storia per aumentare il tuo livello storia giocando e rigiocando le mie pure rigiocando salendo di livello sblocchi e migliori le tecniche usare nelle missioni guadagni più punti giocando a difficoltà più elevate puoi vedere i tuoi progressi attuali premendo capito sulla mappa del mondo va bene eccoli qua progressi tecniche storia livello storia 10 e 350 esperienze storia ho silenziato il microfono così non avete sentito il rumore della bomba atomica ok 1.2 stanne fuori facciamola dai livello facile il guardiano viene inviato per aiutare la legione di ferro a mandare via i vichinghi dal santuario di Harrowgate scusate ho sbagliato scusate ho sbagliato prova nuove tecniche decidere quali tecniche attivare prima di ogni missione prova diversi stili di gioco assegnando le tecniche decidate a 1 e 4 nuova energia colpo di precisione ok mi sembra già a posto vai facciamo questa e poi credo che ci possiamo anche fermare per questo gameplay se un nemico è a corte di resistenza una parada lo butterà a terra va ok e che secondo me è un po' lento ragazzi perchè sto scaricando la prova gratuita di scricevoli la legione di ferro è la più grande ma ad Ashfield la legione di ferro stava per sparire ah ecco perché li hanno recoltato la loro comandante Stone serviva un esercito e Oldencross mandò mi è certo Orsidiana dove sono i nostri rinforzi? che teschio che hai in testa controllare il fronte uccidi i nemici per aiutare i due soldati a spingere la linea del fronte sono quelli blui i nemici non me li punta però sta roba ecco resistenza quando mi c'è la resistenza attacchi più lentamente non puoi attaccare insieme non puoi scattare per cui se smetti di attaccare puoi sempre bloccare o schifare ok va bene andiamo aspetta obiettivo completato checkpoint raggiunto 0 di 3 zona conquistata quindi qua devo andare io schifa con un tempissimo e mi tolghi gli attacchi aspetta ma io boom all'incontrario ammazza sti cazzi se io faccio così non succede niente quindi io pure così posso attaccare e so più veloce tipo conquistandolo questo posto ci aiuterà a radunare rinforzi che si fa qua catapulta non attacco catapulta chi è fa boom 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 credo ammazzo solo uno possibile se ti attacchi gli attacchi effettivamente specifiche hanno animazioni che li collegano premi f6 per visualizzare le mostre del tuo eroe f6 beh tecnico che significa mossa non lo so vabbè continuiamo questo questo dobbiamo esquivare se no sì vero in 5 è decapitato fatto un'altra catapulta ci permetterà di portare degli arcieri eccoci qua devo prendere i fianchi poi sono sotto mi sa che deve a me se non sentite che parlo la musica perché la musica sta gli arcieri ma ce ne sono più di arcieri dove sono questi arcieri non ne vedo usciamo da qua c'è un'altra cazzo mi attacca a me oh levati levati porca sono morti mentre punti il nemico usa un attacco pesante come colpo finale per dare il via a un'esecuzione anzi io non l'ho già visto quando effetti l'esecuzione puoi avere un po' di salute ok ok perfetto questo non lo sapevo comunque sono tutti morti aia eh nooooo nooo hai tutto toccato no no non ci credo mi ha spinto fuori quel bastardo così così mi sai che qua sono a posto e non c'è nessuno ovviamente dov'è la scala ispirazione su il cazzo si è sì ispirazione aia Che è fatto Checkpoint Che è stato 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 Che fatica Che è stato 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 Che è stato